La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani. Sull'intero territorio regionale sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Tra i principali scenari di evento vengono segnalati possibili danni alle coperture, strutture e provvisori dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate, accaduta di rami o alberi, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie e prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al possibile dissesto idrogeologico che rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare.